Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello. Rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia verso Bologna. Sulla FIPILI 3 km di coda per lavori tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est verso Firenze. Sulla strada provinciale 11, Pisana per Fucecchio, termineranno oggi alle 19 i lavori con senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 4.500 e 8.500 nel comune di Cerreto Guidi. Al via oggi la ZTL estiva a Firenze e torna quindi lo stop serale nel fine settimana. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!